Beh, che in questa terza stagione ritroveremo una Lolita che cerca di avere un rapporto di maturità. Ma questi dove l'avete preso? Sono simpatici, hanno prenotato su internet. Siamo alla terza stagione, ormai conosciamo benissimo Lolita, conosci tu molto bene Lolita, ma ti chiedo, grazie a lei hai scoperto qualcosa di te che magari non conoscevi? Ho scoperto, grazie a lei, che mi piace quel sapore un po' di, se vuoi, di malinconia, no? Mi piace anche la mia volte solitudine quando sono fuori per lavoro. Prima la contrastavo, adesso me la godo. All'inizio del primo episodio Lolita dice non distingo più ciò che sogno da ciò che mi fa paura. Non so, forse questa è una dimensione un po' comune, non so se lo pensi anche tu, ormai forse facciamo confusione tra le emozioni, siamo anche forse un po' induriti, non so, un tuo pensiero su questo. Beh, sicuramente questa fase racchiude il fatto che siamo in conflitto con noi stessi e spesso attraverso i sogni, cioè Freud insegna, tiriamo fuori quello che desideriamo, quello che abbiamo paura, no? Le paure più inconsce, più segrete, quindi è una dimensione, quello del sogno, in cui ci permette di essere forse leali con noi stessi. C'è qualcosa che troveremo in questa terza stagione che non credevi tu stessa di affrontare, se ripensi poi magari alla prima stagione, al primo viaggio? Beh, che in questa terza stagione ritroveremo una Lolita che cerca di avere un rapporto di maturità, cioè un rapporto con un uomo che ha dei figli, che ha un passato, che non è un giovane, non è l'amore della sua vita del passato, non è un avventuriero, ma è un uomo stabile, che fa il galerista, che ha le figlie, è grandi, è un vedovo molto posato, molto rassicurante, disponibile e quindi sicuramente lei inizia, cerca di portare il cuore oltre l'ostacolo, cercando di vincere le sue fragilità. Quando si affronta un prodotto come Lolita, di grandissimo successo, prodotto Rai che entra letteralmente nelle case, no? Sembra uno spot, ma è così, entra nelle case delle persone, la Rai e quindi Lolita, si sente un po' la pressione di arrivare effettivamente a tantissima gente? Il cinema chiaramente poi lo si sceglie in un certo punto di vista, invece una serie Rai arriva diretta, non so se si approccia in un modo diverso sul set, se si ha questa consapevolezza. Ma no, io quando lavoro, lavoro sempre pensando, diciamo, scelgo i personaggi che mi piacciono prima di tutto e quindi cerco di farli bene, non sempre mi riesce, però provo a farli con la stessa serietà e non penso mai al pubblico finale, perché questo renderebbe tutto un po' falsato, no? Perché vai incontro a quello che hai già visto. Mi pongo sempre in un'ottica di stupirmi anche e quindi in questo senso, sì, rimango un po', se vuoi, con un distacco, no? Poi ovviamente la pressione c'è, perché poi quando un prodotto è di così grande successo ne senti la paura, la responsabilità di non tradirlo, ma allo stesso tempo però lo devi evolvere, non può essere come la prima stagione. Lolita si trova a suo agio nel suo essere molto istintiva, anche molto dubbiosa, è questo forse che la rende così amata dal pubblico, è questo che la rende così poi riscontrabile, il pubblico si rispecchia in lei, non so? Sì, perché è una donna imperfetta, non è la donna che uno dice, lei non propone un sé di perfezione, lei si propone come una donna imperfetta, con le sue rigidità, con le sue fragilità, le sue solitudini, è ruvida, però allo stesso tempo è un'amica leale, però se ti deve mettere uno sgambetto te lo mette, scorretta sul lavoro, certe volte, no? Perché lei vuole la verità e non si piega in questo, potrebbe ammazzare chiunque pur di arrivare alla verità, perché la cosa che le interessa di più del suo lavoro è questo, in questo è irreprensibile, quindi c'ha come queste due anime, no? C'ha una morbidezza, però anche una grande rigidità e molte donne si possono rispecchiare in lei, e anche questo femminile, se vuoi, di una donna che ha scelto il lavoro, che ha scelto di avere un uomo accanto e non davanti a sé, che la famiglia le manca, sì, ma neanche tanto, molte donne si sentono rappresentate. Grazie, grazie mille. Grazie a te.